pensate che io da domenica fino a stamattina non dopo peanza e cena non ho mai preso il caffè ma perché non sono mai riuscito Cioè Non ce l'ho fatta Il tempo Finito di mangiare dovevo scappare Oppure mangiavo di corsa e Nulla Potrei fare dei roll qua Tanto perdo Però lui non è malissimo Non Sono state un po' così le mie vacanze Un po' diciamo di corsa Da fronte interne sembrerebbe che Sono Che sono mesi in cui tutti gli aggiornamenti I nuovi titoli sono fermi Nel 2022 Blizzard chiuderà E riaprirà con nomi diversi E vari piccoli studi Ovviamente nel momento la validità di mio cugino Questa fronte interna Ma non sarebbe assurdo Può essere Ci sta che dopo la cena evitare il caffè Io l'ho sempre preso Vedermi la nuova Maiev piace Beh Ehi Sì sono spuntato a caso nel video Ma ti sei iscritto al canale? Vai fallo Adesso Occhiolino Giaco Giaco Matto Giaco 20 sub gift di Giaco Per consolidare l'anno Grazie Giaco Ma e gli alert Sono spariti Reika Pietro Rossi Selenis Enrico Tivoli F1025 GenGen Indaco Freddi Samuello Stefano Salvati Capitan Paco Ibecchino Ramingo Cho Fantatrixler Dark Soraya San Andreas Kiko Sensei Dark Ukan Lost Akhil Leuchetto Bira TV Grazie ragazzi Davvero Grazie Giaco Grazie Giaco Benvenuti a tutti Giaco Sei Pazzesco TV Grazie davvero Mi fate emozionare Grazie Motta Toblerone Frankie Thor El Scaglio E Scanderoglio Scanderoglio è il mio giocatore Il mio cacciatore preferito Scanderoglio Quanti ricordi Scanderoglio Sapete dovevo Prima rollare Poi livellare Sono sbaglietto Ora Io devo fare Livello 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 Vero? E poi si vince In qualche modo Non troveranno mai Un altro Bullo Un altro Aruta Quello non credo Un altro Ciccio Graziani Livello 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 Sì 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 Ho arrivato fino al 5 Deco Deco Esa proprio Va Merda Io lo metto Su me vale Due punti vita Anche perché Cioè lo metto No ma vale Sicuro Dai Anche perché Lo gioco E vale Due turni Almeno due turni Stai in campo Quindi Stai in campo Questo turno E anche il prossimo Comento Se c'è la reset Che va via Ufficialmente Io Sono Soprime Per la Juve È un bene Tanto non avevo più voglia Per quanto riguarda Si punta tutto Ciccio caputo E gli attaccanti Quest'anno Al fanta Non ce n'è Questo pomeriggio Come entra Il master story Ma inizia alle 18 Vero Le 18 È un po' Noi Del merdo Perché ostacoli Si parla del fanta Ed eccomi qua Lui Secondo me stia forte Questa turno Tra l'altra cosa Se giro All'italiana Al master su Ci saranno Solo 6 o 7 italiani Andiamo adesso Dalla cima Sicuramente I giocatori Del team totem Sono sul pezzo Ci sono interambi Perché dalla cima È off Ma vabbè Ma che è Thunder Thunder ha smesso Di fare le cose Per bene Oh Hanno venuto Il dominio Ma davvero Cazzo Hanno fatto I soldi Allora A me Ma io non ho parole Ma come hanno venduto Il dominio Ma sono Agognosi Io non lo sapevo Ma chi l'hanno venduto Devo 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 Di installi Di nuovo Qui la pizza Deve Calegos È un negozio Di montagna Gli alpini Certo Gli alpini Allora Magari lo tripla, eh Male senza draghi in campo Eh, ho capito Ma davvero hanno venduto il Il dominio? Ma perché? Cosa hanno detto, ragazzi? Puoi venire invernudo e ferito, Mikus Sì, assolutamente Riguardo alla vendita del dominio, scusatemi Che scusano hanno tirato fuori Ah, poca fluenza, non ne valeva la pena Chi era il sito? Era di Matt e Thunder Il livello Upsi E ai di nuovo Credo che andava a paese Chissà quali segreti sveleremo Non ho paura di nulla Ma 4, 6, 7, 8 No, non fado Cerco di idea Mi serve secondo Calegos Mi serve Nadina Ricorda di fare attenzione E divertirti I battle che hai lì E ai te Oh Guardatevi che pedno Ti ha colto il morto Ieri mi hanno fatto 12 adapt E niente scuro nel veleno Ti mando un abbraccino No, eh Un attimo 55% con il morto Mi sembra buono Non è male, no? Perché le tiroidi È perché c'è dell'odio Terribile C'è una situazione un po' No, mi serve un Calegos La calma del calmo Torna dagli altri Servitore infamido Diretto tale La calma del calmo Non ci credo ragazzi Che non abbia preso scudo di nuovo Non abbia preso scudo di nuovo Neanche veleno Che è? 4, 8, 9 10, 11 15 16 16 adapt Senza scudo Neve veleno 16 Più quegli altri Di quell'altro amalgatone Che ovviamente Non ha preso scudo Più Metteteci un 13% Di losso Nel fight successivo E abbiamo chiuso il cerchio Direi, no? Peccato che il turn Era stato fichissimo Depende del Uwee Sistema difensivo Sistema difensivo Poi ci sarebbe anche il ruolo E poi ci sarebbe anche il ruolo Non ho paura di nulla Cioè anche questo ne ho fatti Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto Se conteggiamo i 16 suoi Sono tipo 24 o 23 Adapt senza Divine Shield Comunque la partita è uscita Molto figa A prescindere da tutto Molto figa E' migliorato decisamente Ma anche un po' per il meta Più che altro Lui è anche No Lui è anche no Depende sul ruolo Fai di e al Se io prendo questo L'unica è che mi dia a lui un battle che hai Un po' difficile Chiudo col comandante direi Anche più 2 più 2 Potrebbe essere ok Ah è vero dovevo comprare la scommettitrice Bravi 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 ho dato un più no più nel me Quello scudo lo volevo io E se a via è benadina Che brutta cosa Dai c'è vocale con sta marcatonina Non lo volevo trovare a mano Cioè non sento storia qui Qua nadina dobbiamo trovare E faccio ancora un roll direi Ma neanche i moduli I moduli dove cazzo sono I moduli I moduli Avresti visto che rendi lo reato Perché Fa la stessa cosa che il discover a sei Senza spendere 3 gold No? No? E no è che questa partita io posso perderla adesso Invece è una partita da vincere Cioè con un amalgadone triplato Con cose È una partita da vincere È proprio di stacco Questa è molto forte Zapp è stato Beoken qui Fettissimo Fettissimissimo La bomba Ok Gli operanti mi sembrano ben formiti per battermi Non lo so perché anche questo pure te lo sai Io non l'ho mai incontrato E io ho l'ho E la Dina è la Dina Niente Chiudo Con Argus Chiudo con Anomalia Cassia sai che ho saputo Adesso Adesso l'ho saputo Che hanno chiuso dalla cima Cioè io sono molto triste anche di questa storia Che mai è inizia senza Natina questa board Mamma mia Stai andando alla grande Cento quante Perché è chiuso? Vedete che non lo sapete neanche voi Non lo sapevate neanche voi Vedete che non lo sapete neanche voi Non lo sapete neanche voi vinta a vedere le miei oppo non vedo mai cosa non vedo cosa possa andare storto cosa mai potrebbe andare storto questo video non è grandissimo non è questa picca perché bello wow nadina hello signorina nadina non saprei perché c'era un ghoul lui lo piglia c'è ancora due ore ciao ciao servitore mi mancherai invece le stats servono contro di lui zero moduli zero nadine pazzesco 99.9 ragazzi ma che ce frega noi andiamo di statistiche un segreto di questo gioco è avere le stats migliori dei vostri opponent se voi avete le stats più grosse dei vostri opponent in genere vinci questo è un consiglio che do a tutti voi cosa ne pensi di ricevere 7 vada via? bene bene per la Juve dai no 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 prendo 100 vittorie ragazzi mi sento vergognoso mi sento scarsissimo è veramente così ma è як di vi v